Se sei ansioso, stressato o magari fai fatica a dormire questo massaggio alle orecchie ti potrebbe proprio aiutare. Va a stimolare il nervo vago che è un nervo principale nel sistema parasimpatico. Abbiamo un sistema simpatico di attivazione, di lotta e di fuga che si accende quando siamo stressati e dobbiamo lavorare e muoverci e abbiamo anche un sistema parasimpatico di calma e di rilassamento. Se questi due sistemi non sono ben bilanciati se siamo troppo stressati troppo attivi troppo simpatici avremo dei disturbi come ansia, depressione, stress tachicardia aumento della pressione sanguigna. In queste situazioni un bel massaggio che riattivi il sistema parasimpatico può essere utile. Non trattare, non trattare. Ciao a tutti io sono Gianluca Italiano e in questo video parleremo di come fare un buon automassaggio all'orecchio per aumentare il rilassamento e la calma. Oggi tanti di noi vivono ansia, stress, depressione o insonnia e questo tipo di massaggio può aiutarli a calmarsi nei momenti più ansiosi o più di rabbia o per esempio per facilitare il sonno prima di andare a dormire. Faremo prima una parte di spiegazione del perché può essere utile in modo tale che tu capisca quali sono i principi dell'auricoloterapia se ce ne sono effettivamente sono fondati e poi possa mettere in pratica tutta la seconda parte del video proprio con delle sequenze di esercizi guidati da me che potrai ripetere tutti i giorni ogni volta che te ne senti il bisogno. Il sistema parasimpatico fa parte del sistema nervoso autonomo ovvero quella parte del tuo cervello che coordina e gestisce tutte le tue funzioni automatico il battere del cuore il respirare la costrizione o l'apertura dei vasi sanguigni. Quando ti arrabbi per esempio è il sistema nervoso autonomo che libera l'adrenalina che fa aumentare il battito cardiaco che ti fa respirare più affannosamente. Ma è anche il sistema nervoso autonomo a farti rilassare a farti addormentare ad attivare la digestione o magari l'ovulazione nella donna o l'eiaculazione nell'uomo. Se vogliamo favorire quest'ultima parte del sistema nervoso autonomo che si chiama sistema parasimpatico dobbiamo conoscere il nervo vago che è il nervo principale che trasmette gli impulsi dal cervello alla periferia. È un nervo lungo che nasce proprio alla base del collo e arriva fino al cuore ai polmoni e a tutti gli organi interni ma anche delle ramificazioni fino all'orecchio. Per questo motivo fare alcune attività che coinvolgono la respirazione alcuni massaggi nell'addome o come vedremo adesso nell'orecchio può attivare il sistema parasimpatico attraverso il nervo vago. Andiamo a dare una stimolazione propria all'orecchio per mandare un messaggio di rilassamento. Se ci pensi in effetti l'orecchio è sempre stato fin da bambino una zona di rilassamento una zona di calma. È molto comune vedere bambini tra i 6 mesi e 1 anno fino ai 2 o 3 anni toccarsi l'orecchio per rilassarsi. Magari hanno il ciuccio in bocca e intatto si toccano l'orecchio. Quando crescono iniziano a toccarlo anche ai genitori. E quando diventiamo adulti spesso nelle relazioni di coppia scopriamo come l'orecchio sia una zona erogena del nostro partner. Proprio perché richiama calma serenità e anche piacere. La medicina cinese da anni approfondisce le tecniche sull'orecchio perché pensa che abbiano dei benefici anche sugli organi interni. C'è la gomuntura auricolare c'è il massaggio auricolare con la credenza che ci siano delle relazioni dirette tra ogni organo ogni tua parte del corpo e l'orecchio. Se questa cosa è sicuramente discutibile quel che è vero è che massaggiare l'orecchio va a stimolare il nervo vago e ti farà ringrazzare. Andiamo quindi a vedere adesso insieme tutta una sequenza di esercizi che potrai mettere in pratica fin da subito. Nel primo esercizio andiamo a stimolare e a massaggiare questa fossetta sotto l'antielica. Questa è definita elica in termine medico questa è l'antielica subito sotto c'è una fossetta proprio in questo punto. Infiliamo il dito e andiamo a fare dei cerchi lenti e graduali. All'inizio fai scorrere il dito solo sulla pelle senza una forte pressione senza esagerare. Se vedi che ti fa piacere puoi spingere un po' più dentro un po' più forte per aumentare il rilassamento. Fai dei giri in senso orario e poi in senso anti-orario. Potresti sentire del rilassamento potresti sentire della calma o magari non sentire proprio niente. Abbi pazienza a volte i benefici sono immediati a volte arrivano proprio alla fine della sessione. Rilassati e poi lo facciamo anche con l'orecchio sinistro. Andiamo a mettere il dito nel punto come prima e facciamo dei cerchi. Lenti rilassati. Si vede bene il punto? Mi giro per fartelo vedere meglio. Cambiamo anche senso. Senso contrario se vedi che ti fa piacere se vedi che stai già rilassando continua pure vai avanti vai avanti fino a quando non ottieni tutti i benefici di questo massaggio. passiamo adesso alla seconda tecnica che è una tecnica di stiramento. Andiamo proprio a prendere l'orecchio gentilmente con il pollice la parte dorsale del pollice da dietro e lo andiamo a stirare leggermente in fuori. Tengo una tensione costante piacevole senza forzare e poi rilasso. Magari adesso mi sposto in fuori ma anche un po' più in basso. Raggiungo una tensione piacevole la stessa cosa la stessa cosa la facciamo verso l'alto in fuori e verso l'alto aggiungo la tensione piacevole tengo e rilasso. Approfittane fai un piccolo sorriso che aiuterà e di nuovo mi riposo prendo bene l'orecchio e lo tiro in fuori tengo qualche secondo se va a piacere vado pure avanti per un periodo un po' più lungo e poi anche verso il basso come prima facciamo due giri per ogni direzione e verso l'alto questa è una tecnica che va a stirare non solo l'orecchio ma anche tutti i muscoli circostanti che arrivano anche fino alla tempora mandibolare può essere utile anche in quelle persone che hanno problemi di masticazione o acufene lo facciamo anche dal lato sinistro iniziamo tirando in fuori tengo la tensione e rilasso e rilasso va molto bene in tutte le situazioni in cui lo stress e l'ansia sono la parte principale per esempio una persona che soffre di bruxismo avrà grandi benefici da questi massaggi adesso spingo verso il basso l'orecchio in fuori e verso il basso tengo l'attenzione se ci pensi il bruxismo non è legato tanto alla mandibola ai denti ma è una vera e propria risposta di stress e di ansia perché cosa fa un cane quando è aggredito e digregna i denti proprio per proteggersi ed è così che anche noi non siamo dei cani ma dai nostri antenati abbiamo imparato che nei momenti di stress digregniamo i denti il bruxismo deriva proprio da questa situazione spingiamo adesso tiriamo verso l'alto per godere anche di tutti i benefici sul lato sinistro ed è per questo che se vuoi soprare il bruxismo il primo passo è calmare l'animo rilassarsi attivare il sistema pari simpatico questi esercizi questi massaggi possono proprio fare il caso tuo il terzo esercizio invece è quello di massaggiare la conca la parte posteriore dell'orecchio infila il dito nell'orecchio come se volessi pulirti le orecchie come fai la mattina ma invece di spingere in dentro spingeremo indietro proprio come se volessi stappare l'orecchio è una spinta con la giusta pressione senza esagerare e poi andiamo a fare dei cerchi per massaggiare cerchi lenti rilassanti prima in un senso e poi in senso contrario un piccolo sorriso fa sempre bene non dimenticarti mai di sorridere e poi lo facciamo anche dall'altra parte dito bene indietro spingendo verso la parete posteriore dell'orecchio facciamo dei cerchi se è doloroso se è fastidioso evita evita deve essere piacevole puoi evitare un punto per farlo invece in un altro punto evita questo massaggio e fai gli altri che non sono dolorosi giro prima in un lato e poi in senso contrario e riposo il quarto esercizio è un esercizio invece di stiramento di tutti i muscoli laterali all'orecchio perché il nervo vago ha anche delle diramazioni tutto intorno che appunto coinvolgono la moescella la tempora mandibolare e quindi se andiamo a stirare queste zone avremo dei benefici faremo proprio così iniziamo da un lato dal lato destro appoggiamo la mano posteriormente all'orecchio e andiamo a stirare la pelle indietro tengo un po' di tensione rilascio o se no faccio dei cerchi in questo modo lenti progressivi metto la tensione e torno metto la tensione e torno metto la tensione e torno poi spingerò un po' più verso il basso se prima andavo indietro verso la parte posteriore della testa adesso spingerò verso la spalla in giù spingo stiro e rilasso spingo e stiro e rilasso anche qui possiamo fare dei cerchi spingo stiro stiro e rilasso spingo e rilasso e poi nella parte alta proprio sulle tempie in questo caso utilizzo la parte più dura della mano l'appoggio sopra l'orecchio e vado a fare un cerchio in alto e indietro in alto e indietro in alto metto la tensione la tengo per un po' e rilasso in alto e indietro lo rifacciamo anche sul lato sinistro la prima parte mano dietro l'orecchio spingo indietro verso la parte posteriore della testa e rilasso facciamo un cerchio spingo rilasso spingo rilasso spingo rilasso spingo e rilasso e poi da qua spingo in giù sempre parto con le dita dietro l'orecchio prendo la pelle la trascino in giù e faccio un cerchietto spingo in giù sento la tensione e la rilasso spingo in giù tensione rilasso in giù così spingo in giù benissimo e per finire ancora palmi della mano sopra la testa sulla tempia facciamo dei cerchi spingo in su tutta la pelle e torno in giù in su e in giù a me piace farli anche ad occhi chiusi ad occhi chiusi sono eccezionali perché riesci proprio a rilassarti ad ascoltare la pelle che si muove la pressione e vedrai che ti sentirai subito più calmo ancora una volta un cerchio e riposo il quinto esercizio che io faccio molto frequentemente preso dal loro yoga è una respirazione che ti aiuterà a calmarti si chiama respirazione dell'ape mettiamo le due dita centrali il medio e l'anulare proprio sull'orecchio l'indice sopra la testa il migliolo sulle guance e il pollice dentro l'orecchio in questo modo non vado completamente a tappare ma mi metto davanti per aumentare le vibrazioni da questa posizione faccio respiro e poi metto delle vibrazioni proprio come fossi un'ape noterai che se schiacci troppo la vibrazione è piccola senti poco rumore se invece schiacci poco il rumore verrà amplificato e questo darà enorme rilassamento prova a farlo facciamolo 5 volte insieme inspiro e fuori inspiro e fuori inspiro e fuori inspiro e fuori e fuori l'ultima volta un bel respiro dentro l'aria e fuori benissimo ultimo esercizio per concludere la sessione mani una contro l'altro e strofiniamo forte più forte che possiamo per creare un bel calore quando le sentiamo belle calde le appoggiamo sulle orecchie chiudiamo gli occhi ci rilassiamo e poi dalle orecchie le passiamo sugli occhi e rilassiamo bene anche gli occhi bene concludiamo ancora una volta con un bel respiro e con un bel sorriso che ci aiuteranno a stare bene a stare più calmi non so se anche a te ha fatto l'effetto che ha fatto a me ma adesso mi sento estremamente rilassato penso che non ci sia cosa più valida che sentire su se stessi questi benefici metti un pollice in su prima di andare via iscriviti al canale condividi questo video magari fai insieme con i tuoi figli con tuo marito con tua moglie con tutti i tuoi parenti questi semplici esercizi un po' per gioco un po' per divertimento un po' per efficacia e utilità perché magari tanti di loro potrebbero averne bisogno e condividerli con te vi farà estremamente piacere noi ci vediamo domani con un altro video ciao e grazie ciao